Apre il Manfredonia, chiudono le inseguitrici, menù della giornata numero 23 nel campionato di eccellenza pugliese, arrivato al quartultimo turno di regular season. Il team di Pasquale De Candia, capolista del Girone A con 55 punti, scende in campo alle 15 di sabato a San Ferdinando, dove arriva un Polimnia, oggi quinto a quota 32 in piena comfort zone. Domenica alle 15.30 invece in agenda il big match di giornata, quello del Ventura, dove si incroceranno il Bisceie, secondo a quota 49, e il Corato, terzo con 46. Entrambe a caccia di continuità dopo le vittorie per 2-0 rispettivamente su San Severo e Borgo Rosso Molfetta, entrambe intenzionate a garantirsi il miglior piazzamento in chiave spareggi promozione. Proverà ad approfittare dello scontro diretto il Mola, quarto con 42 punti e ospite di una Vigortrani che sta stabilendo record negativi di domenica in domenica. Completano il programma Borgo Rosso Molfetta San Marco, sabato alle 19 e Orta Nova San Severo, fogge in cedit Unione Calcio Bisceie e Real City Canosa in agenda domenica alle 15. Nel girone B la copertina è tutta per il big match tra prima e seconda della classe. Lugento, nuova capolista a quota 54 punti dopo aver messo la freccia del sorpasso domenica scorsa, ospita il città di Gallipoli che adesso insegue a meno uno, ma non finisce qui perché saranno a confronto anche la terza e la quarta della classe. Sul campo del Manduria, oggi sul gradino più basso del podio con 47 punti, arriva l'Otranto distante tre lunghezze. Tutti di scena domenica alle 15 in un programma completato da Magli Arborisbelli, Avetrana Ostuni, Gallipoli Football Club Castellaneta, Novoli Massafra e Virtus Matino Ginosa.